Ancora Ok, vorrei fare una domanda Vorrei sapere chi è che ha inventato l'identificazione di chiamata No, sul serio, a che serve questo servizio? Su per secoli D'accordo, ok, non per secoli, non per secoli Ma per tanti e tanti anni la gente ha risposto al telefono senza sapere chi fosse E per quanto ne so non è mai morto nessuno, no? No, questa costante ossessione del bisogno di sapere in ogni momento chi ti chiama Della nausea Ecco, rispondi al telefono e scopri chi è E allora lo sai Io Io dico solo Che Che se un uomo non mi chiama Io vorrei riservarmi il diritto di potergli telefonare ogni cinque minuti finché non risponde Ma è chiaro che se lui guarda e legge che sono sempre io a chiamarlo Allora Allora penserà che io sia una psicopatica Cosa che io non so È evidente Not for a year But ever in the day Allora 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 Allora